Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Il Centro Sperimentare di Cinematografia festeggia i suoi 80 anni alla Casa del Cinema con proiezioni e incontri con registi e allievi. L'iniziativa è gratuita. Info su casadelcinema.it. Infine per il Festival Europeo della Via Francigena appuntamento domenica prossima alle 9.30 in Largo della Giustiniana per un itinerario storico naturalistico nella riserva naturale dell'Insugherata. Ma come sempre 060606 o comune.roma.it